Con l'inaugurazione di questa mattina un pezzo importante del centro di Pescara torna a vivere? Sì, intanto torna a vivere, manteniamo l'impegno di valorizzare il cosiddetto centro commerciale naturale. Oggi questa nuova pavimentazione, la bellezza, l'eleganza di questa pavimentazione rende questo nostro centro, questa zona a traffico limitato, una delle più belle d'Europa, non d'Italia, ma d'Europa. A detta di tutti, a detta di architetti, a detta di coloro che sono abituati a viaggiare e a confrontarsi anche con le altre realtà. È un impegno che abbiamo mantenuto nei confronti dei nostri commercianti, con i quali dialoghiamo e ci confrontiamo, anche su questioni importanti come l'ambiente, su questioni importanti come le zone a traffico limitato, che devono essere metabolizzate, ma che sono comunque un valore aggiunto di centri fondamentali come quello di Pescara. Dopo via Firenze in autunno toccherà altre strade importanti della zona commerciale? Continuiamo a lavorare anche su via Firenze perché vogliamo allargare ulteriormente questa zona. Inauguriamo di fatto anche via Mazzini, un'altra zona a traffico limitato, un'altra via che prima non aveva certamente una grande dignità, a detta dei residenti, a detta anche dei commercianti. Oggi invece è una delle vie più belle di questa città, ma noi non lavoriamo soltanto nel centro di Pescara, sono in corso lavori sul lungomare nord, sono in corso lavori sul lungomare sud e tanti altri ne abbiamo in cantiere. Secondo quello che si può fare in tempi difficili, in cui le ristrettezze economiche purtroppo impongono anche agli amministratori il fatto di dover razionalizzare gli interventi, ma noi stiamo lavorando, stiamo facendo a testa bassa, forse comunicando meno con meno lustrini e paillettes, ma con tanta concretezza e tanta sostanza.